Casa Dei Industria è un'azienda familiare fondata nel 1994 che si è concentrata fin dall'inizio sulle macchine bordatrici automatiche e compatte. Le nostre bordatrici, progettate e costruite nella sede di San Marino, hanno raggiunto il notevole traguardo di 35.000 unità vendute in 140 paesi nel mondo. 60 collaboratori lavorano oggi nei reparti progettazione, montaggio, acquisti, controllo qualità, vendite e assistenza. Il nostro obiettivo, attraverso una rete capillare di rivenditori con service autorizzati, è fornire ai falegnami e alle piccole industrie bordatrici compatte e semplici da utilizzare. Le nostre macchine sono flessibili, ottimizzano il consumo energetico e garantiscono qualità costante. In Casa Dei Industria la produzione è organizzata secondo i più alti standard di efficienza. Dopo il controllo qualità dei materiali in ingresso, il magazzino principale rifornisce la linea di montaggio. I nostri specialisti si possono concentrare esclusivamente sulle macchine. Ogni stazione effettua un autocontrollo qualitativo. Ciascuna macchina procede nella linea di assemblaggio, solo se ogni dettaglio è conforme agli standard. Dopo il montaggio, la macchina è testata in ogni possibile condizione operativa ed è accompagnata da un rapporto di prova e da campioni di pannelli bordati. Infine, le macchine sono preparate per la spedizione. E321. L'avanzamento del pannello avviene tramite cinghia dentata, borda in testa e refila in una dimensione compatta di 2 metri. E350PM è il nuovo modello entry-level per l'artigiano che risponde alle esigenze del mercato moderno. Disponibile con e senza rettifiche diamantate in entrata, lavora pannelli fino a 45 mm di spessore e ha la possibilità di montare tre gruppi finitori. Dopo l'accensione, la macchina porta in breve tempo la colla alla temperatura di lavoro. Se non viene utilizzata per 10 minuti, la macchina automaticamente abbassa la temperatura al valore impostato di standby. Sia la temperatura di standby che quella di lavoro sono editabili dall'operatore. La regolazione dei gruppi, in base allo spessore bordo utilizzato, avviene in modo semplice e preciso. L'operatore inserisce un pezzo di bordo negli appositi spazi sui gruppi di lavorazione. Nessuna operazione di misurazione è necessaria. Il pressore è regolato facilmente tramite indicatore numerico in base allo spessore del pannello. Dal quadro di controllo si possono scegliere i gruppi da attivare, rettifiche in entrata, intestatore e refilatore. I tre gruppi finitori raschia bordo, raschia colla e spazzole permettono di raggiungere un eccellente livello di finitura. E450PM, due motori indipendenti ad alta frequenza, azionano due frese diamantate di rettifica. Su richiesta sono disponibili il gruppo intestatore multifunzione, un'intuitiva interfaccia illustrativa con touchscreen da 7 pollici e il gruppo vasca-colla intercambiabile. E550PMCR è il nostro modello di gamma alta. È equipaggiata con un gruppo arrotondatore, controllo tramite PLC ed encoder e touchscreen da 7 pollici, spessore pannello 50 mm e velocità 9 metri al minuto. È disponibile su richiesta il gruppo incollaggio intercambiabile PUR per colla termofusibile e poliuretanica. Possibilità di montare tre gruppi finitori. L'operatore avvia la macchina e la temperatura della colla sale fino alla temperatura di lavoro. Il pressore è regolato facilmente tramite indicatore numerico in base allo spessore del pannello. Il cambio di tipologia di bordo è reso facile dall'utilizzo di pezzi di bordo e dagli indicatori numerici. Dal touchscreen con interfaccia illustrativa si imposta il tipo di lavorazione richiesto e automaticamente la macchina attiva i gruppi necessari. Rettifiche in entrata, intestatura, refilatura e arrotondatura. I parametri della lavorazione si possono memorizzare in una delle 15 memorie e possono essere richiamati in qualsiasi momento. I gruppi opzionali disponibili per questo modello garantiscono una qualità e finitura del pannello pari a una macchina di alta gamma come spray antiadesivizzante prima delle rettifiche, lampada infrarossi, sistema di incollaggio poliuretanico ed EVA utilizzando la stessa vasca di facile manutenzione, spray antistatico raffreddante, intestatore con frese multiprofilo, refilatore con fresa multiprofilo e kit nesting, raschia bordo con kit nesting, raschia colla con kit nesting, spray lucidante, spazzole, illuminazione a led dentro la cabina e rulliera d'appoggio supplementare per pannelli di grandi dimensioni. Tutto questo in soli 3 metri e mezzo di lunghezza. K60PM lavora pannelli fino a 60 mm di spessore, piano caricatore automatico per le stecche fino a 10 mm di spessore, funziona a 11 metri al minuto e le rettifiche in entrata sono standard. Su richiesta il gruppo incollaggio intercambiabile PUR per colla termofusibile e poliuretanica. Grazie per la visione! Grazie per la visione!